Ancora una volta nel mirino dei ladri la scuola primaria Scarano dell'Istituto Comprensivo Colozza di Campobasso. I malviventi hanno provato ad entrare dalla finestra così come appurato ad una prima verifica da parte del personale scolastico che questa mattina ha ripreso l'attività. I ladri sono entrati probabilmente la scorsa notte creando caos all'interno. Sono scattate subito le indagini da parte delle forze dell'ordine e i rilievi da parte della Polizia Scientifica, ma ad una prima rilevazione i ladri non sarebbero riusciti a portare via nulla di rilevante dalla scuola. Non è la prima volta che i ladri provano a svaliggiare l'Istituto. In passato vennero portati via computer ed i soldi delle macchinette del caffè, ma gli autori di quei colpi non sono stati mai individuati a causa della carente videosorveglianza che caratterizza la strada fra via Insorti di Ungheria e via Sant'Antonio dei Lazzari. Alcuni ingressi della scuola, a causa di una illuminazione pubblica carente, costituiscono infatti una porta d'accesso molto agevole per i ladri. Intanto oggi la scuola è stata chiusa ed i ragazzi le mandate a casa per permettere le operazioni di sanificazione e di rendicontazione di quello che manca.